Conosci Elon Musk? Dove resti? Sta rivoluzionando il mondo così come lo conosciamo. Ma chi è Elon Musk? Elon Musk è un imprenditore, un visionario. Sta rivoluzionando il mercato dell'auto, sta rivoluzionando il mercato degli viaggi spaziali, sta rivoluzionando il mercato dell'energia. È un personaggio straordinario, molto discusso, venerato o considerato un pazzo, amato o odiato. Ma una cosa che mi colpisce tantissimo è il suo concetto di impossibile. Benvenuto in Perle di Coaching, io sono Mauro Pepe e in questo video parleremo di Elon Musk e del suo controverso concetto dell'impossibile. Ma come si fa a definire chi è Elon Musk? Elon Musk è un imprenditore 2.0? Ma forse è riduttivo pensare che sia un imprenditore. È un visionario? E anche lì è riduttivo, non inquadra per bene tutto quello che davvero sta facendo. Al massimo ti posso raccontare cosa ha fatto finora. Elon Musk stava nell'equip che ha creato Paypal e l'ha portata a un livello straordinario. Poi quando è stata venduta Paypal, con tutti quei soldi ai guadagnati, era una cifra mostruosa, li ha presi e li ha investiti tutto in alcune sue visioni. Ha creato SpaceX, un'azienda che si occupa di viaggi dalla Terra verso lo spazio, perché la sua visione è quella di portarci a vivere su Marte. Oggi è l'unica azienda privata in grado di lanciare un razzo dalla Terra verso lo spazio, in particolare verso la stazione orbitante. Infatti è uno dei fornitori principali della NASA. Cosa altro ha fatto? Ha aperto un'azienda che si chiama Tesla, rivoluzionando il mercato dell'auto elettrica. Fino a pochi anni fa si pensava che l'auto elettrica era sì una buona soluzione per non inquinare, ma le performance erano pessime. Oggi non si può più pensare a una cosa del genere. Se vedi le Tesla, sono macchine bellissime, super tecnologiche e potentissime. Sono una rivoluzione del mercato dell'auto. Inoltre ha aperto un'azienda che si chiama Solar City e sta rivoluzionando anche il mercato dell'energia solare. Tutto questo perché l'insieme è per la sua visione di portarci su Marte. In un'intervista ha spiegato che tutto quello che sta facendo è per creare i presupposti affinché l'essere umano possa vivere su Marte. Anche se dovesse riuscirci dopo la sua morte. Ma soprattutto Elon Musk sta creando una rivoluzione concettuale e sulle convinzioni comuni, su quello che è possibile o è impossibile fare. Però Elon è anche un personaggio molto sui generis. Una delle ultime notizie è che un suo tweet, che oggi chiameremo tweet 420, dove scriveva che Tesla, che è un'azienda quotata in borsa, diventerà di nuovo un'azienda privata perché lui ricomprerà tutte le azioni a 420 dollari. Questo tweet ha fatto un sacco di scalpore. La società americana che controlla la borsa ha trovato questo tweet particolarmente pericoloso. Infatti andava a manipolare la quotazione delle Tesla. Aiaiaiai, cosa ha fatto? Ha multato Elon Musk per 20 milioni di dollari e ha multato anche la Tesla per 20 milioni di dollari. Ma la cosa peggiore è che ora Elon qualsiasi comunicazione farà sui social dovrà essere prima filtrato da un legale. Cioè un legale dovrà valutare se quello che sta dicendo ha impatto o meno sulle azioni delle sue società. Aiaiai Elon, ma questo è Elon Musk. È considerato un visionario ma a volte anche un pazzo. Ma anche per questo Elon Musk sta rivoluzionando il mondo. Per questo Elon Musk sarà uno dei personaggi di un libro che sto scrivendo insieme a Massimo Bencivenka. Un libro ispirazionale sulla storia di grandi uomini e donne che hanno rivoluzionato il mondo nel loro modo, nella loro attività, attraverso qualcosa di straordinario che sono stati di ispirazione per me e che mi auguro sia una ispirazione anche per te. Ma andiamo a capire qual è il concetto di impossibile per Elon Musk. Lui non parte mai dalla fattibilità fisica, delle convinzioni o culturale riguardo a qualcosa. Lui parte dalla visione, ha deciso che l'essere umano deve avere l'opportunità di vivere su Marte. Non si è preoccupato di stabilire se è fattibile o meno. Ha pensato innanzitutto alla visione, poi dopo trova le soluzioni. E questo lo fa per ogni suo progetto. Parte dalla visione, non dalla fattibilità. Perché la visione per Elon Musk è l'unica cosa che conta. E questo l'ha portato a lavorare con degli standard altissimi sia dal punto di vista dello studio, sia dal punto di vista del lavoro sia dal punto di vista anche della ricerca del personale. Lui vuole solo i migliori. Ma vuole i migliori non solo per competenze ma anche per la capacità di trovare soluzioni fuori contesto o soluzioni creative o soluzioni che si basano sulla visione e arrivano a trovare delle soluzioni. Una cosa che mi ha colpito tantissimo in un libro che ho letto è che Elon Musk, vicino a un suo dipendente, una volta disse Quando ti chiedo di realizzare una specifica se tu mi dici che è impossibile pretendo da te che vieni già con qualche idea con qualche soluzione per risolverla. Semplicemente Elon Musk non accetta che sia impossibile. Ogni persona che ha raggiunto qualcosa di straordinario e che andava al di là delle convinzioni comuni ha pensato alla visione. Non al fatto che fosse impossibile. Grande Elon Musk Venerato o considerato un pazzo Amato o odiato Ma una persona che sta rivoluzionando il nostro mondo Per questo abbiamo deciso di inserirlo nel nostro libro. Da parte mia ti do un abbraccio e al prossimo video. Ciao!